Undicesima giornata per la seconda categoria di 1 e B, al comunale di Collepepe i padroni di casa in casa a cariche verticali bianco-verdi affrontano l'S di giovani schiavi in completo nero. Sconto diretto questo per restare agganciato al treno dei playoff. Partita tesa che attraverso una prima fase di studio e la prima scintilla si vede al diciassettesimo. Pazzaglia cerca la conclusione da fuori aria ma la mira da rivedere. Ancora al ventunesimo ghiotta occasione per il Collepepe. Ariri solo davanti a Torini e si fa appuntizzare e gli tira addosso. Al venticinquesimo poi Colle annullato allo schiavo per fuorigioco e dal trentesimo invece sono i padroni di casa a protestare reclamando un calcio di rigore. Il match si sblocca al trentanovesimo, palla persa a metà campo da Circuigni, ripartenza veloce e lanci lungo per Cesaretti che vede Modesti fuori dai pali e con un tocco da sotto scavalca l'estremo difensore. Vantaggio schiavo. Nel secondo tempo ancora schiavo vicino al raddoppio, corner dalla destra, Cesaretti cerca la deviazione vincente ma la sfera corre sul fondo. L'incontro procede in un sostanziale equilibrio con le due squadre che annullano le reciproche manole offensive. Il tutto però si sblocca al trentaseiesimo con il raddoppio ospite, crossa centrale che pesca a Pappatolo tutto solo, che solo appoggia in rete la sfera per il 2-0 schiavo e festeggiare 250 gol nei campionati Umbri. I nostri complimenti. Al quarantesimo il Collepepe cerca di riaprire le sorti dell'incontro. Circuigni si inserisce in area dalla destra ed appoggia al centro per Scamucci. È troppo tardi però per recuperare ed arriva infatti il triplice fischio finale che chiude l'incontro senza ulteriori occasioni. Abbiamo fatto una buona prestazione, purtroppo non concretizzando le occasioni che siamo riusciti a creare. Poi dopo, alla fine del primo tempo, per una piccola disattenzione abbiamo subito il gol alla fine del primo tempo. E diciamo che quello probabilmente è stato un episodio che ci ha un pochino tagliato le gambe, perché quando giochi un primo tempo come l'abbiamo giocato noi, poi ti ritrovi sotto 1-0 e diventa difficile. Siamo rientrati in campo male, molto confusionari, dove sicuramente tutte e due le squadre sono state un pochino, il gioco è stato abbastanza spezzettato, anche a causa, credo, mi dispiace dirlo, ma partita maschia, ma purtroppo dove l'arbitraggio mi è sembrato un pochino troppo inesperto. Questo dispiace perché non si può sempre far debuttare, purtroppo da qualche parte devono debuttare, lo capisco, qualche partita la devono fare, però qui a Collepepe ultimamente da quello che mi dicono sono stati un po' troppi debuttanti e questo dispiace un po'. Comunque poi alla fine credo che la maggiore esperienza della squadra avversaria abbia preso il sopravvento, credo che ai punti un risultato di parità sarebbe stato il risultato più giusto, comunque onore ai vincitori, non è stato di merito neanche nostra questa sconfitta. È stata una partita sofferta, soprattutto il primo tempo, non rispettavamo le distanze, eravamo lunghi, loro hanno avuto più occasioni per metterci in difficoltà, però penso che quando abbiamo fatto gol la squadra poi si è unita, ha cominciato a giocare come piace a me, come piace anche a loro. Diciamo che abbiamo sofferto poco, soprattutto lasciando loro lo spazio per attaccarci sull'esterno per poi cercare di ripartire chiudendo la partita. Siamo stati bravi, poi nei minuti finali quando la squadra avversaria ti fa gol è normale che per la squadra che vince subentra quella specie di paura. Quegli altri si buttano a testa in giù, però penso che alla fine la vittoria sia meritata per quello che abbiamo prodotto nel secondo tempo, venendo poi da un periodo non brillantissimo. La squadra si sta riunendo e gli infortunati stanno rientrando piano piano, la società è sempre vigile e ha preso due giocatori in questa riapertura delle liste. Come si dice? Io sono soddisfatto, la società la vedo soddisfatta, i ragazzi hanno capito che mentalità ci vuole per affrontare tutte le partite di seconda categoria. Bene, godiamoci questa vittoria, da martedì lì aspetto al campo con la stessa intensità e la stessa voglia. Bene, godiamoci questa vittoria.